Osservare il territorio da una prospettiva inconsueta dall'alto a bordo di una mongolfiera per poi scendere con i piedi per terra e confrontarsi nel Think Talk Umbria bella sicura e connessa le opportunità del PNRR. Lo hanno fatto circa 130 imprenditori Umbri nell'ambito dell'evento organizzato da Caccia Group in collaborazione con il Comune di Gualdo Cattaneo per la quarta e ultima tappa di avvicinamento all'Economic Challenge 2023, in programma il 28-29 settembre al Sacro Convento di Assisi, dove amministratori, imprenditori e rappresentanti del mondo bancario e universitario si ritroveranno per parlare delle sfide che attendono la sfera politica ed economica. L'evento si è tenuto al Parco Acqua Rossa di Gualdo Cattaneo, un'occasione d'incontro per approfondire argomenti d'impresa, coltivare il valore delle buone relazioni e volare verso un'Umbria migliore, ha spiegato Francesco Pace, fondatore e amministratore di Acacia Group, che questa volta ha voluto meravigliare i suoi ospiti con un'esperienza unica. Dopo il volo di 90 minuti, le 65 mongolfiere sono atterrate e si è dato il via al dibattito. L'idea è quella di far generare un valore pubblico e collettivo a questi soldi del PNRR che ad oggi ammontano in Umbria circa 2 miliardi e mezzo, poco più di 2 miliardi e mezzo. Logicamente da poco c'è stata di ieri una rimodulazione del PNRR che interesserà anche alcuni progetti declinati in Umbria. Tengo a sottolineare che non saranno cancellati questi progetti ma saranno finanziati e inseriti in altri programmi comunitari, quindi la dotazione è quella e quella rimane, anzi sarà incrementata come detto. Vedremo nei giorni futuri come sarà questo nuovo PNRR che va a inglobare e addirittura a quintuplicare quello che era il Repower, quindi con forti sostegno alle imprese per la transizione sia 4.0 che 5.0. Grazie a tutti.